Le risorse della Boldrini, ecco come finirà l'Italia, tutti su una graziella in autostrada, a comandare, ecco a te Roby Bar, voi che amate la Boldrini, voi che avete voluto questa gente, goditi questo panorama, dottor Bar, goditelo, voi e tutta la caserna, guardate qua, le risorse della Boldrini, tipo che pedala con una graziella, dici che pensavo fosse una strada normale, stavano schiacciato, proprio non so come mai non è successo, niente, lui aveva le cuffie in testa e pedalava tranquillo, magari se era arrivato un camion indietro che magari gli suonava ma non se ne accorgeva, le risorse della Boldrini, eccole qui, in diretta, condividete signori, condividete!